Come gli altri anni, ormai è una tradizione che è stata iniziata da diversi anni, questo è l'ottavo anno che la facciamo. È un momento importante perché in un periodo di crisi economica dove lo Stato sicuramente non mette a disposizione grandi risorse per quanto riguarda la prevenzione delle malattie, queste sono occasioni un po' uniche. La nostra azienda è sempre stata molto sensibile per quanto riguarda la prevenzione delle malattie e delle malattie renali in particolari. Domani dalle 9 fino all'1 e dalle 15 alle 17 chi vorrà potrà venire qui con un campione di urina e noi analizzeremo le urine, faremo una raccolta dell'anamnesi per valutare se ci sono fattori di rischio per malattie renali, misureremo la pressione e rilasceremo un referto da dare al medico curante su quelle che sono le indicazioni che riceviamo da questi semplici esami. Se poi ci sarà la necessità di approfondimenti li richiederemo successivamente. Non ci sarà bisogno di prenotazione né tantomeno di pagare un ticket? No, è uno screening assolutamente gratuito a cui possono accedere tutti i pazienti.